Da giorni non faccio che pensare al numero 22 che, insomma, attanaglia la mia vita come quella di molti. Oh no, ci risiamo. Ma quale cavolo è la motivazione per cui questo numero 22 continua ad assillarmi? Forse sarà l'iniziazione di Pitagora, che durò 22 anni presso i sacerdoti egiziani. Oppure perché si possono iscrivere in un cerchio 22 poligoni regolari. No. Forse perché 22 diviso 7 è del pi greco, il quale rappresenta il rapporto misterioso e approssimativo del perimetro di un cerchio rispetto al suo diametro. Oppure perché 22 sono i quarti di tono dell'ottava musicale. Oppure perché la testa dell'uomo è fatta di 22 ossa, di cui 8 craniche e 14 facciali. Eh? Oppure perché il numero 22 è impiegato 13 volte nella Bibbia. Ah no, perché il 22 c'è Sport in Festa. Il 22 settembre a Benafro, in zona lavatoio, torna a Sport in Festa e la musica. Il 22 settembre a Benafro, in zona lavatoio, torna a Sport in Festa e la musica.